Amici ed amiche, bentrovati, bentornati, buona domenica, come state? Come state? Io tutto bene, sono felice, ieri sono andato all'Eolandia con la mia piccola che ha urlato forza a Milan anche da sopra la gestrina volante, però insomma ci manca il campionato ragazzi, tra l'altro stasera sarò ospite a Diretta Stadio, probabilmente il tema sarà l'Italia chiaramente, ma un raffaleao esplosivo, signori ci sono delle importanti novità del mercato e la direzione che prende il Milan a gennaio perché c'è una svendita totale del quale il Milan deve e può approfittare, ma soprattutto deve approfittare perché sono dei buonissimi giocatori che se ne vanno per quattro spicci. Allora ragazzi, chiaramente noi dobbiamo, si inizia a parlare di Milan-Juventus perché Milan-Juventus, come abbiamo detto più e più volte, sarà la partita del dentro fuori. È chiaro che tanto tutti noi ormai sul web siamo super pessimisti, poi mi piacerebbe fare un video di confronto tra il Milan di Elliot e il Milan di Redbird senza parlare poi dei risultati finali perché se si parlasse dei risultati finali il risultato sarebbe scontato visto che loro ci hanno fatto vincere uno scudetto, però voglio farlo insieme a voi proprio per analizzare e vedere oggettivamente quali sono le differenze fra questi due fondi, anche se so che tante volte questi video poi portano a delle disiscrizioni o comunque a pensare che io voglio fare il filo aziendalista quando a me, onestamente, dell'azienda Milan in sé non mi interessa niente, io sono solo milanista, il mio lavoro è tutt'altro, però capisco che la gente che non mi segua non lo sappia e quindi possa portare a pensare queste cose qui. Ad ogni modo, Milan-Juventus alla detta di tutti è la partita del dentro fuori sia per noi che per loro. Perché ti può dare un'ammazzata a livello, come dire, di umore, a livello di sensazioni, a livello di crescita e di convinzione dei propri mezzi. E tant'è, guardate, se lo dico io posso capire che tanti dicano ma non puoi essere ottimista, come fai, bla bla bla. Ormai mi avete etichettato come il perennemente ottimista, ma in realtà, sapete qual è la verità, è che il Milan per me è una cosa bella, il Milan per me è gioia di vita, onestamente. E mi posso arrabbiare, posso cristonare quanto volete, ma poi alla fine per me il Milan è una cosa bella e io non riesco a parlare male della mia squadra del cuore. Tutte, tutte, tutte le santissime volte. E quindi cosa faccio ogni volta? Pur nei brutti pensieri cerco di trovare qualcosa di positivo, perché per me il Milan è bellezza, il Milan è amore. Quindi cosa succede? Che se anche Sacchi mi viene a dire che il Milan è una squadra forte, se anche Capello mi viene a dire che il Milan deve, è ancora, potrebbe ancora rientrare nella lotta a scudetto. E allora io chi sono? Per non credere alle parole che dicono questi grandissimi tecnici della storia del Milan. È chiaro che devono cambiare totalmente tantissime cose, ma fino a prova contraria, signori, il calcio è bello perché è strano. Nessuno avrebbe detto che avremmo perso la Champions di Istanbul e nessuno avrebbe mai pensato che da lì a poco ci saremmo vendicati proprio contro Liverpool. Il bello del calcio è proprio questo. Quindi a me piace appendermi a delle cose oggettive. A me le cose oggettive dal quale mi voglio appendere oggi sono che abbiamo Mignan che è uno dei portieri più forti d'Europa, Teo che se maledettamente riuscisse a messare la testa a posto sarebbe uno dei laterali dei terzi più forti d'Europa, Renders ce lo vogliono rubare tutti, Pulisic top player assoluto, Leao, 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 ma avete visto cosa ha fatto col Portogallo? E qui soprattutto il che mi voglio appendere, Rafa Leao. Ragazzi, Rafa Leao, terza partita di fila, non so se era mai successo in carriera al Milan soprattutto, in carriera sicuramente no perché ai tempi non erano neanche minimamente lontanamente un giocatore decisivo come lo è adesso, ma non era mai successo che in tre partite consecutive con un coefficiente di difficoltà e un coefficiente di importanza totalmente diverso fra di loro, Leao fosse così determinante in tutte e tre le partite. Ora abbiamo una partita con la Juve che è la prova del nove per vedere se questo Rafa Leao continuerà così, perché ragazzi, a me Rafa Leao, non mi voglio esaltare anche se la parte più positiva di me tende a farlo, ma questo Rafa Leao mi sembra totalmente svoltato, totalmente girato, totalmente un altro giocatore, psicologicamente sembra quasi che abbia mandato a stendere il suo voler diventare ballerino, cantante e giocoliere, non so cosa voglia fare nella vita, ma questo Leao così decisivo a me mi fa ringalluzzire non poco. Poi vediamo, vediamo se sarà un fuoco di paglia oppure sarà un Rafa Leao totalmente cambiato. Vero è che con questo Rafa Leao io vedo la partita con la Juve consapevole che lì davanti si devono preoccupare parecchio, il nostro mastro Piercalolo si deve preoccupare di Rafa. E poi si avvicina il mercato di gennaio e c'è una squadra, non so se avete letto ultimamente tra virgolette gli scandali sportivi o comunque anche non italiani, ma c'è una squadra che deve vendere a tutti i costi appena la retrocessione, se no rientra mi pare di 500 milioni di euro, il Lione viene retrocesso. E allora a gennaio ci sarà una svendita totale dei giocatori che devono lasciare per rimpolpare le casse francesi e quindi chi c'è? Ci sono due o tre profili super interessanti che il Milan dovrebbe andare a controllare. Uno è Ryan Cherchi, o Cherchi o come lo volete chiamare se la pronuncia mi manca, che è un trequartista, un giocatore che è stato vicino alla Lazio in passato, che è molto giovane e che ha tantissime squadre che ambiscono le sue prestazioni ed è un prospetto assoluto. Gif Torban, quell'attaccante che il Milan ha già trattato qualche estate fa, che sembrava potesse essere in ottica rosso-nero, quest'anno non lo sta facendo benissimo, ma è un buonissimo attaccante. E soprattutto Cakeret, raga, sto giocatore è un giocatore che il Milan, se riuscisse veramente ad accaparrarsi, sarebbe tantissima roba. Il Milan deve approfittare di questa situazione del Lione. Perché? Perché è un po' come quando la Stombilla ha venduto quel Douglas Lewis che alla Juve sta facendo schifo, ma la Juve ha approfittato della situazione piazzando due giocatori, tra l'altro con Iling poi ridato nuovamente in prestito. Se il Milan riuscisse ad andare su questi tre giocatori sarebbero dei grandissimi prospetti, dei grandissimi giocatori giovani, molto forti, ma che andranno via per rimpolpare le casse del Lione. Quindi occhio! Perché ve lo sto dicendo io per primo e occhio! E poi c'è una suggestione. Questo lo capisco perfettamente, non voglio illudere nessuno, capisco perfettamente sia una suggestione. Raga, ma Ozyman sta avendo una media gol pazzesca attualmente in Turchia, ma sarà nuovamente libero dopo la fine del prestito. E io ricordo che Ibrahimovic ci parlò, anzi ce lo dissero proprio loro, ce lo disse proprio Ibrahimovic che aveva parlato con Ozyman per farlo venire al Milan. Raga, non succede che non succede, perché tanto so già cosa mi direte, la nostra società mai andrebbe su Ozyman, mai spenderebbe tutti sti soldi, ma se dovesse succedere che Ozyman in qualche modo un prestito con diritto, o magari dopo la cessione di Rafa Leao, ad esempio voi cedereste Rafa Leao per avere Ozyman lì davanti? A voi vi farebbe così tanto schifo? Oppure, ve lo chiedo così, trovate veramente che sia impossibile che un giocatore in un modo nell'auto come Ozyman possa arrivare al Milan? Tra stipendi e tutto? Non lo so, è molto molto difficile, ne sono perfettamente conscio, ma sta il fatto che il Milan un attaccante, anzi due, l'anno prossimo le deve fare, Abram se ne va, Jovic se ne va, e il Milan rimane sempre senza attacco, Okafor da punta non può giocare, Camarda che ha segnato anche con l'Under 21 crescerà sempre più, sicuramente sarà l'attaccante titolare del Milan, ma secondo me tra almeno un paio d'anni ancora troppo presto, e io fin tanto che Ozyman non sia a casa qualunque altra squadra, onestamente una speranza che possa arrivare al Milan me la tengo, ma si sa, è solo una suggestione e non può essere al momento nulla di più, però c'è dal registrato, è stato registrato il fatto che Ibrahimovic con Ozyman ci abbia parlato, di che cosa abbiano parlato? Di una partita di padel? Di un nuovo investimento da fare assieme a un ciringhito magari su qualche spiaggia? Non lo so, ma stai fatto che hanno parlato, vi invito a Steve a attivare la campanella, commentare numerosissimi, sempre in civile rispetto di tutte le opinioni e noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando stasera su Diretta Stadio, vi aspetto!